Stefano Colantuono, stava per finire la partita e hai chiesto al quarto uomo quanto manca, quanta sofferenza, ci voleva questa vittoria ed è arrivata. Sì, sì, ci voleva perché comunque credo ce la siamo anche meritata, perché il campo secondo me è espresso quello. Sono molto contento perché la squadra ha lottato fino alla fine, gli vanno fatti i complimenti, ci ha creduto fino alla fine e sono stati premiati. A questo ci fa molto piacere, sia per la classifica, per la gente, un po' per tutto. La partita è iniziata bene perché l'Atalanta era in vantaggio, poi così il gol del pareggio avrebbe anche potuto condizionarvi un po' perché è arrivato proprio in chiusura di primo tempo. Sì, peccato perché abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto gol, potevamo fare il secondo gol. Poi c'è stato subbatti e ribatti in aria, siamo stati un po' sfortunati, hanno pareggiato. Quello ci poteva dare un po' di ammazzata a livello psicologico. Invece devo dire che nel secondo tempo siamo orientati dentro cattivi, aggressivi. Il Cagliari si è solo difeso, non è che ci ha creato grossi problemi. E alla fine siamo stati premiati. Anche perché poi quando il gol non arriva, quando lo sbagli, poi rischi di... Sì, rischi di tenere i polli. Poi questa è una partita che paradossalmente puoi anche perdere, lasciarla sul filo dell'equilibrio. Non puoi non aspettarti che le squadre avversarie non creino qualcosa. E a volte ci può essere anche la beffa. Invece oggi siamo stati... Quanto meno c'è stato ridato quello che c'era stato tolto con il Chievo. Ecco, il 95esimo è 30, mancavano pochissimi secondi. Sei andato dal quarto uomo. Quanto manca? Proprio la tensione. Sì, quella è stress che si vive lì dalla panchina. Però alla fine passa tutto. Siamo contenti, ci rilassiamo e pensiamo subito a questo trittico di partite che sarà molto difficile. Affrontarlo con un più 5 dalla terza ultima è diverso? È molto diverso, molto diverso.